Delimitazione dell'area con identificazione dell'ingresso unico e con la possibilità di formare code ordinate e dell'uscita. Obbligo di mascherina e sanificazione delle mani mettendo a disposizione guanti o gel. Un solo componente per nucleo familiare, il numero di persone permesse deve essere pari ai metri del fronte di vendita delle bancarelle. Sono i contenuti del piano firmato dal sindaco Brugnaro per la gestione dei mercati al chiuso e all'aperto all'indomani dell'ordinanza regionale. Le misure e la disciplina applicativa sono state emanate dal comandante generale della polizia locale e il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà la sospensione immediata del mercato. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 5 di sabato al 14 novembre. Brugnaro poi come commissario delegato all'emergenza per l'acqua alta ha firmato un'altra ordinanza con la quale ha prorogato fino al 31 dicembre il termine per la trasmissione tramite l'apposita piattaforma informatica delle integrazioni documentali relative alle istanze di contributo per i danni subiti dall'acqua alta del novembre 2019. Un gesto di attenzione verso tutti quei soggetti, ha dichiarato il primo cittadino, che stanno ancora provvedendo a fornire alla struttura commissariale la documentazione per ottenere il risarcimento per i danni subiti dall'acqua alta dello scorso anno.